Il 19 e il 20 gennaio, al convito nazionale Canopoleno in Via Luna e Sole, ritorna l'Open Day. L'istituto farà conoscere la sua offerta formativa. Si inizia venerdì alle 18.30 con la presentazione dei licei. Sabato, dalle 15.30 alle 18.30, toccherà invece a scuole primarie e medie. È un convito nazionale, quindi una scuola che ha una scuola primaria, una scuola media e quattro licei. Due licei nell'area classica e due licei nell'area scientifica. I licei nell'area classica sono il liceo classico, che opera in questa città dal 1611, il liceo europeo, che è un liceo classico con un'apertura internazionale, e poi il liceo sportivo e infine l'ultimo arrivato è il liceo scientifico internazionale di indirizzo lingua cinese, che ci sembra avere avuto una buona accoglienza in città. A Cano Poleno sono attivi anche il convitto per gli alunni fuori sede, il semiconvitto e il campus del liceo. Venerdì scorso, grande partecipazione la notte dei licei con studenti e famiglie. La notte dei licei è una manifestazione che da alcuni anni viene regolarmente progettata e programmata dai licei classici italiani per in qualche modo ricordare a questo paese e da dove veniamo, soprattutto che senza quella memoria non possiamo andare da nessuna parte. Tra le iniziative proposte da studenti e insegnanti, anche la rappresentazione della Scuola di Atene, celebre opera pittorica di Raffaello.